Dalla sclerosi multipla al cancro al glaucoma, le applicazioni mediche della cannabis rilanciate da una legge della regione toscana. Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con Leonardo il Tg della scienza. La Toscana è la prima regione ad aver approvato una legge per l'uso di farmaci a base di cannabis. Un del 2007 ammetteva già in realtà in Italia l'utilizzo di preparazioni derivate dalla marijuana a scopo terapeutico e palliativo, ma in Italia i farmaci non esistono. Ora con la legge le asle toscane penseranno alla fornitura. La norma disciplina l'uso dei cannabinoidi come antidolorifici, antiemetici nella chemioterapia, inoltre permette una riduzione della dipendenza dagli opiacei. È davvero da molto tempo che la cannabis viene studiata per uso medico. Vediamo in quali campi. La letteratura medica sugli impieghi dei principi attivi estratti dalla cannabis per curare malattie anche gravissime è sconfinata e lunga è la storia delle sue proprietà curative sia antinfiammatorie sia antidolorifiche nelle antiche civiltà della Cina, dell'Egitto, della Grecia, dell'India, del sud-est asiatico e nelle civiltà islamiche medievali. Nel caso del glaucoma, ad esempio, il THC tetraidrocannabinolo, anche in concentrazioni moderate, diminuisce la pressione intraoculare di circa il 25%, riducendo le distorsioni del campo visivo. Una combinazione fra THC e CBD, il cannabidiolo, altro principio attivo ottenuto dalla cannabis, calma gli spasmi muscolari dovuti alla sclerosi multipla, grazie a un'azione neuroprotettiva e antinfiammatoria. Nella cura dell'Alzheimer, sperimentazioni hanno evidenziato come il THC prevenga la formazione dei depositi nel cervello che sono all'origine della malattia, gli accumuli della proteina che inibisce la memoria e la capacità cognitiva nei pazienti. Studi accreditati considerano i farmaci derivati da cannabis una valida alternativa alla chemioterapia nel bloccare la diffusione delle metastasi di forme aggressive di cancro al seno. Il cannabidiolo bloccherebbe l'attività del gene ID1, ritenuto responsabile del meccanismo della metastasi. Questi sono alcuni esempi che possono spiegare il motivo per cui in molti paesi, fra cui Austria, Germania, Repubblica Ceca, Olanda, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Israele e diversi stati africani, pur essendo vietato l'uso della cannabis come stupefacente, l'impiego nella produzione di farmaci da inalare o da assumere in capsule o in altre forme è largamente consentito. Anche in Italia un decreto ministeriale del 2007, voluto dall'allora ministro alla sanità Livia Turco, consente l'uso farmacologico dei principi attivi contenuti nella cannabis, ma la sua applicazione è stata impossibile dal momento che questa categoria di farmaci era prodotta soltanto all'estero e non esistevano percorsi sistematici di approvvigionamento da parte di farmacie, ospedali e altre strutture sanitarie.